Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà un cambiamento del tempo sull'Italia per l'arrivo di una zona di bassa pressione che coinvolgerà soprattutto le regioni centro-settentrionali. E così se controlliamo anche la nuvolosità prevista sull'Italia, vediamo tornare alcuni sistemi nuvolosi in parte arrivano dal Mediterraneo occidentale, in parte anche dall'Europa centrale, si danno appuntamento proprio sull'Italia e in effetti ritroveremo anche acquazzoni e temporali che interessano le zone interne dell'Italia centrale ma con locali sconfinamenti anche lungo le zone costiere, specie sull'Adriatico e poi verso fine giornata ne arrivo forti temporali sulle regioni di nord-ovest. Quindi in definitiva ci attendo un martedì ancora stabile, bello e molto caldo al sud ma invece al centro-nord diciamo molta più variabilità con il ritorno anche di temporali localmente piuttosto intensi nelle zone interne dell'Italia centrale e diciamo a fine giornata forti temporali sulle regioni di nord-ovest e porteranno aria più fresca, insomma stiamo per porre definitivamente fine all'intensa ondata di caldo che ha interessato l'Italia nelle ultime due settimane. Con questo è tutto per i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.